Un grande lavoro è stato svolto dagli alunni e dagli insegnanti della classe Quarta A dell'Istituto Comprensivo Via Pietronenni di Torre Maggiore che hanno messo in scena la parodia dei Promessi Sposi, una bellissima rappresentazione svolta nell'auditorium della scuola media, tanta la partecipazione. È stato molto allettante avvicinare questo romanzo del Manzoni attraverso una parodia ai nostri alunni di quarta che si sono divertiti tantissimo ma soprattutto hanno appreso l'importanza dell'essere sempre al passo dei tempi perché comunque è una parodia che mette in risalto ciò che il Manzoni ha voluto dire cioè l'amore, la giustizia e la pace. Si sono divertiti tanto, hanno lavorato tantissimo in collaborazione anche con le altre mie colleghe l'insegnante di Orno, l'insegnante di Carlo, la collega Silvia Ametta ma soprattutto grazie a tutti loro perché veramente hanno messo in scena uno spettacolo indusiasmante. I bambini sono stati felici di sapere cosa rappresentavano i bravi e portarli ai nostri tempi paragonandoli con i nostri attuali bulli e hanno cantato alcuni brani che con l'aiuto di Antonio Tangredi si è riuscita a cambiare le parole e adattandole allo spettacolo. È stata molto bella, mi sono divertito molto. È stata molto bella, emozionante, ci siamo tanto divertiti e in poche parole è stata bellissima. È stata bellissima, ci siamo tantissimo divertiti e cercavamo di far divertire anche gli altri.